Primo test di due d'avvicinamento a questo esordio mondiale? Direi molto bene, è stato un primo set dove insomma era tanto che non giocavamo quindi abbiamo sbagliato qualcosina però ci sta, ci sta, sono contento poi di come siamo stati in campo, di quello che abbiamo fatto, ovviamente ci serve ancora qualcosa di più perché per fare qualcosa di bello al mondiale, per fare bene insomma ci sarà da fare ancora di più di quello che abbiamo fatto oggi, però sono contento. Fare di più dove? Ma fare di più in tutti i fondamentali, io parlo sempre in generale insomma tutti i fondamentali e oggi sono contento per come abbiamo fatto, per come siamo stati in difesa, si vedeva che non vogliono andare sulla palla, si vedeva che non vogliono fare quindi è un bilancio sicuramente positivo. Forse è mancato il muro i primi due set, poi è arrivato anche quello? No, non sono d'accordo, abbiamo contenuto molto, il muro non è solo quando si mura, si mura appunto, il muro è anche quando si tocca e si difende e si ripresurisce quindi sono contento anche per quello aspetto lì. Sto trovando tanto entusiasmo con il pubblico? Sì è stato bellissimo giocare qua a Padova, palazzetto pienissimo, stracolmo di persone che che hanno tanta voglia di vederci, sono molto felici, hanno risposto alla grande quindi e li ringrazio tutti quanti.